Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezie di oggi 7 maggio 2019 Salutato Gesù Cristo e Dio vi benedica Come avete visto dalla miniatura, una bellissima immagine della Vergine Maria che è la figura di colsambica d'arcangelo che distruggono il demonio negli ultimi tempi E come vedete qui, ovviamente nella locandina, ultimi tempi preghiamo, convertiamoci E soprattutto dalla miniatura come si vede, come vi dicevo, c'è scritto il giorno 13 di maggio dovete consacrarvi nuovamente la nostra regina e madre La preghiera, la sua potenza allontana ogni forma di peccato Cioè è fondamentale la preghiera giornaliera e in tutto il momento sembra pensare al Signore Fratelli e sorelle, perché la preghiera deve essere fatta con il cuore, quando uno lavora, quando uno sta in famiglia Ma mentalmente, dentro il cervello ovviamente, dentro il cuore soprattutto, nel cervello mentalmente ovviamente, ma si parla del cuore Sempre, 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 come dice Gesù, non stanchiamoci mai di pregare, andiamo sempre su questa cosa Andiamo a leggere i messaggi riferiti ad oggi Iniziamo con il messaggio di San Michele Arcangelo a Luz de Maria, 30 aprile 2019 Andiamo a vedere le parti più salienti, perché il messaggio è lungo, ma come sapete noi vi mettiamo tutto in descrizione Allora, dice questo Se a qualcuno piace trovare persone su cui puntare il dito, che lo punti su se stesso Mentre ciascuno di voi si converta in quel sammaritano in cammino, che vedendo un fratello stesso a terra, è svenuto Lo unsero, portò nella locanda perché guarisse Quindi, come dice Gesù, non guardiamo la pagliuzza nel nostro fratello, ma guardiamo la trave che abbiamo nel nostro di occhio Questo c'è scritto nel Vangelo, ed è questo il significato di ciò Dice, cambiare, trasformare la vita, avete tempo prima che sopraggiungano i castigli che si abbatteranno Non dimenticatevi che l'amore divino è infinito, che la misericordia divina è infinita per coloro che si correggono E' questa la comprensione alla quale il cielo vi sta chiamando I peccatori devono pertirsi E voi, in modo particolare, continuate a stare attenti che non vi si trovi tra di loro Il nostro Re Signore Gesù Cristo, la nostra Regina e Madre, non vi stanno incudendo paura Vi stanno invece allertando perché sappiate le cose e non rimaniate addormentati nel peccato I profeti stanno trasmettendo la parola della casa paterna perché in questi momenti vi manteniate preparati Altrimenti, se non vi allertassero, gli accadimenti che verranno vi troverebbero addormentati E questo non è quello che l'amore divino vuole per i suoi figli Popolo di Dio, rallegratevi nel pentimento al quale potete accedere liberamente Ed arrivare a pentirvi con spirito generoso Amati figli del nostro Re Signore Gesù Cristo Sono tanti gli uomini che stanno chiedendo al cielo che la tribolazione abbia già inizio E quelli che la sollecitano sono nel giusto? Perché il patimento sarà per tutta l'umanità Non solo per alcuni, ma per i peccatori e per i non peccatori E in quei momenti verrete provati nella fede Pertanto, chiedete una fede incrollabile Cioè, è come quando Faccio un piccolo inciso È come quando vi dicevo della parola del Signore Ovvero, lo dice Gesù Cioè, nella vita si devono affrontare le tempeste Quello, il discorso che diceva Gesù Se la casa è sulla roccia Sulla parola di Dio, sta su Gesù La casa soffia il vento Le bufere, quello che vuole Ma la casa rimane ferma Sulla parola di Dio E Gesù la difende Ma se questo non avviene Non c'è Gesù come fondamento Crolla tutto E quando uno dice Si deve chiedere, no? Che avvenga presto Il ritorno del Signore Sicuramente, dice Maratana Ma che si dica Avvenga presto la tribolazione E dice Quelli che la sollecino Sono nel giusto Siamo tutti peccatori Per questo che bisogna Chiedere al Signore misericordia Misericordia Prima che arrivi la giustizia La misericordia Bisogna chiedere al Signore Scusate per l'inciso L'universo sta mettendo La prova all'uomo Il sole si oscura E mette la prova all'uomo L'acqua dei mari La pioggia Possono mettere alla prova all'uomo Per questo la fede Deve essere irremovibile L'uomo di Dio Non verrà defraudato Per questo Cari fratelli e sorelle Preghiamo per la fede Signore aumentaci la fede La speranza e la carità In questo momento L'umanità deve prepararsi A spostarsi Da un posto ad un altro A causa dell'inclemenza Degli accadimenti Continuate a stare attenti Il sacrificio Gratito a Dio È quello che costa maggiormente Durante l'avvertimento Vi vedrete così come siete Per questo non dovete aspettare Convertitevi ora Dall'universo Sta per sopraggiungere Una minaccia in attesa Dall'umanità La fede sarà indispensabile Popolo di Dio Il nostro amato E l'amatissimo Angelo di pace Giungerà l'umanità Per soccorrere E avvertire il popolo di Dio I figli di Dio Non sono mai stati Abbandonati E poi dice Pregate per il Sudafrica Che patirà La causa dell'uomo Pregate per il Giappone La natura Lo ricolpirà di nuovo Pregate per la Colombia Patirà Pregate per l'Inghilterra L'uomo si infiammerà State all'inizio Di un mese molto speciale Il mese della nostra Regina e Madre E' imprescindibile Che tutte le chiese del mondo In tutte le case Che decidano di farlo Preghino il Santo Rosario Per la pace nel mondo Il giorno 13 di maggio Inciso vi dico Fatima ovviamente E vi dico tutto Dovete consacrarvi nuovamente La nostra Regina e Madre La vostra Regina e Madre Perché sotto la sua protezione E con il suo soccorso Per intercessione di vostra Madre Siate fortificati Nell'amore Nella speranza E nella carità Accogliete questa richiesta E' di estrema importanza Un messaggio bellissimo Ed è la verità Andiamo a un secondo messaggio Mercoledì 24 aprile 2019 Messaggio della Beata Vergine Maria A Monte Santo Nofrio E dice questo Come avete visto Dalla locandina E la preghiera è importante Sentite che cosa dice anche qui Figlioli Fate penetrare queste parole Nei propri cuori L'ho detto e lo ripeto Sono parole di salvezza eterna Invito l'umanità Ad esaminare i propri cuori A non bruciarli con le tenebre Figlioli In questi tempi di grazia Vi prego Ce la possiamo ancora fare Al trionfo dell'amore Alla gioia Alla pace Per questo invito Alla perseveranza E alla preghiera La preghiera La sua potenza Allontana ogni forma di peccato Tiene lontano le tenebre Porta all'amore Alla gioia Alla serenità Rinnovo l'invito A tutti i fanciulli Vi prego Cercate la luce Costudite il vostro corpo Costudite la vostra anima Nell'amore di mio figlio Vi prego Accogliete quest'invito Un invito all'amore Un invito alla riflessione Al perdone Al donarsi al bene Ripeto figlioli Ce la possiamo ancora fare Vi prego Ascoltate e custodite queste parole Perseverate nella preghiera Per i sofferenti Nel corpo e dell'anima Con l'impegno Dell'uomo Tutto si compie Ciò che mio figlio Destruisce su questa terra Messaggio di Međugorje Del 2 di maggio 2019 Questo è l'ultimo messaggio Ovviamente di questa puntata E andiamo a leggerlo Io conosco L'apparizione è a Miriana Ovviamente Io conosco la grandezza Del suo amore Io l'ho portato dentro di me L'ostia nel cuore La luce L'amore del mondo Figli miei Rivolgersi a voi È segno del suo amore È segno dell'amore E della tenerezza Del Padre Celeste Un grande sorriso Colmo dell'amore di mio figlio L'invito alla vita eterna Il sangue di mio figlio È stato versato per voi Per amore Questo sangue prezioso Per la vostra salvezza Per la vita eterna Il Padre Celeste Ha creato l'uomo Per la gioia eterna Non è possibile che moriate Voi che conoscete L'amore di mio figlio Voi che lo seguite La vita ha trionfato Mio figlio è vivo Perciò figli miei Apostoli del mio amore Che la preghiera Vi mostri la via Ed il modo Di diffondere L'amore di mio figlio La preghiera Nella forma più soblime Figli miei Anche quando provate A vivere le parole Di mio figlio Voi pregate Quando amate Colore che incontrate Diffondete l'amore Di mio figlio L'amore È ciò che apre Le porte del paradiso È quella chiave Che apre la porta Del paradiso Figli miei Dal principio Io ho pregato Per la Chiesa Perciò anche voi Apostoli del mio cuore Vi invito a pregare Per la Chiesa E per i suoi ministri Per coloro Che mio figlio Ha chiamato Vedete Parole stupende Tutti i messaggi Come vedete E tutti dicono Preghiamo Preghiamo E convertiamoci Fratelli e sorelle Adesso Non domani Adesso Fratelli e sorelle Io ve lo sto ripetendo Da un sacco di tempo Ma non perché io Sono un gran peccatore Ma Questo è quello Che ci sta chiedendo Il Signore Nella Santa Messa Nella confessione Nei sacramenti Lì è la base Cementificata E lì la cosa fondamentale La Santa Messa E tutto quello Che è nella Santa Chiesa La parola di Dio È fondamentale Fratelli e sorelle Senza di questo Non si va da nessuna parte Che il Signore vi benedica Se lo ha dato Gesù Cristo E se potete Diffondete la parola di Dio Diffondete questi video messaggi Iscrivetevi Se Dio vuole A questo nostro canale Con la campanella E preghiamo 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 Per la Santa Chiesa Cattolica Preghiamo E rimaniamo tutti uniti In preghiera A difendere la verità Questa è la cosa Più importante Stare con il Signore Gesù Cristo Io Vi saluto Dio vi benedica Sia lodato Gesù Cristo Ave o Maria Vi faremo Ovviamente per live Vi daremo sempre informati Con i nostri messaggi Vi faremo sapere Quando Come Il perché Se Dio vuole Dio vi benedica Alla prossima puntata